I carabinieri del Noe di Salerno hanno intensificato i controlli agli impianti di trattamento rifiuti e agli stabilimenti produttivi situati nelle principali aree produttive del territorio provinciale di Salerno. A Bracigliano in particolare, i militari hanno individuato e sequestrato un'area agricola di 5.000 m2 su cui erano stoccate illecitamente circa 980 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da terra e rocce, miscugli o scorie di cemento e mattoni e ceramiche. Denunciato il titolare del fondo che dovrà rispondere del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Nell'area del Cilento invece è stata individuata una cava in cui risultava operante un impianto di estrazione, selezione e frantumazione in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed un centro di raccolta comunale di rifiuti in cui i reflui venivano immessi nell'impianto di depurazione senza autorizzazione.